Il suo curriculum è davvero di tutto rispetto. La ringrazio signora Ruini. Mi chiami Lola per cortesia, il cognome di mio marito. Come preferisce, Lola. Tu pensi che tornerà? Ma certo che tornerà. Ma come fai a dirlo? In fondo potrebbe fregarsene. Chi lo conosce potrebbe scomparire nel nulla. No, tornerà. Te lo assicuro, sono una brava persona. Una brava persona? È uno che uccide per soldi. È proprio difficile definirlo una brava persona. Sì, ma è un professionista, è il suo lavoro. Anche lui ha tutto l'interesse a mantenere una certa reputazione, no? E poi ha dei principi morali, questo lo so. Sono anni, Lola, sono anni. E non ne indovino più una. Un po' meno. Un po' meno. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. È così. È così. Va bene. Allora. Un po' di più. Che cosa. Un po' di più. Un po' di più. Grazie a tutti.